Via Milano Alta. La telecamera resterà spenta fino a giugno. Domani sarebbe dovuta finire la sperimentazione avviata dal Comune di Como, ma in base a quanto annunciato martedì scorso da Vincenzo Bell, assessore alla viabilità, il passaggio continuerà a essere libero fino al termine delle scuole. I primi risultati ci dicono che eliminando la chiusura mattutina, il traffico di auto e pullman non ne ha risentito. Quindi proseguiremo con questo assetto almeno fino a giugno, aveva detto l'assessore. La precedente giunta, con Mario Lucini, sindaco, e Daniena Gerosa, assessore alla mobilità, aveva deciso di chiudere Via Milano Alta, Como al traffico, dalle 7 alle 9 di mattina. Una misura, spiegava l'amministrazione, con la quale consentire agli autobus tempi di percorrenza più veloci durante le ore di punta. Nel quinquennio Lucini i commercianti di Via Milano Alta più volte hanno espresso dubbi e perplessità su questa scelta. E così l'attuale amministrazione, a luglio, ha deciso di spegnere in via sperimentale la telecamera che impediva l'accesso dalle 7 alle 9 per valutarne gli effetti. Telecamera che in cinque anni aveva permesso al comune di Como di incassare un milione e mezzo di euro in multe e che resterà spenta, come detto, almeno fino a giugno. Nella stessa zona è attesa un'altra sperimentazione viabilistica, la rotatoria in piazza San Rocco, che sempre in base a quanto comunicato dall'assessore Bella dovrebbe essere disegnata entro due mesi.